Sono Alberto Lessane, sono il capogruppo dell'aggruppamento che abbiamo formato per il progetto della Cavallerizza. È un aggruppamento che è davvero multidisciplinare, che copre tutte le professionalità. Il progetto della Cavallerizza è sicuramente un progetto importante, non solo per il centro storico di Torino, ma pensiamo che sia davvero uno dei tasselli per una nuova trasformazione torinese. È all'interno del centro, all'interno del cuore, e se uno guarda quell'area in questo momento, una visione notturna, vede che è una massa un po' scura, nonostante la sua straordinaria bellezza, è una massa buia. Ecco, se dovessimo scrivere in poche parole come il nostro progetto, è che noi gli vogliamo dare luce, vogliamo farlo diventare davvero luminoso. Lo facciamo attraverso il nostro progetto, attraverso il nostro progetto urbano, attraverso il nostro progetto di illuminazione. Vogliamo poi inoltre che la Cavallerizza diventi un polo attrattivo, artistico, culturale, aperto a tutte le ore del giorno, e lo facciamo attraverso delle connessioni, le connessioni urbane. Vogliamo riconsegnare alla città questi spazi. Compagnia di San Paolo, che è l'attore principale di questa grande trasformazione, vuole far sì che quest'area sia davvero un centro nuovo culturale, e lo fa sia tramite la sua nuova sede, ma sia anche donando e restituendo alla città gli spazi pubblici. Lo facciamo attraverso queste connessioni orizzontali e poi proponiamo un elemento che è un elemento verticale. Proponiamo un belvedere, una vedetta, in un punto dove già nel passato era stato indagato questa possibilità di alzarsi, una struttura leggera che diventa un belvedere alla quota di 50 metri, che è la quota della linea della Mola Antonelliana, proprio per guardare la Mola Antonelliana e diventare una vera e propria piazza. Se pensiamo, infatti, Torino è una delle poche città che ha il suo simbolo più importante senza una vera e propria piazza. Ecco, questa struttura leggera fatta di diversi piani può diventare davvero il luogo dove uno può ammirare e vedere la Mola Antonelliana da quel livello lì. Scendendo poi negli spazi più urbani, negli spazi più delle corti interne, proponiamo a una quota di 7,20 metri un soffitto luminoso, fatto di fasci luminosi, che creano una griglia. Questo è un po' in continuità con le luci d'artista torinesi, aggiungendo anche qui un tassello. E pensiamo che questo progetto artistico, iconico, scenografico, di luminotecnico della Cavallerizia possa davvero andare a spingere a dire che Torino può diventare la capitale della luce italiana. Grazie a tutti.